Posso? Buonasera. Ci siete? Ci siete. Ora prendi. Allora, prendi. Lì qua, per favore. Lì qua. A me, a me. Io non ce l'ho. Ok. Un attimo. Dai ragazzi. Un attimo. Ok? Vando? Come di qua? Dai, ok? Vado? Ok. Grazie, buonasera, scusate davvero. Stai bene ragazzi, andatemi fermo un attimo con mia sorella.